Ma è chiaro che il mercato del lavoro si preannuncia molto critico dopo marzo, ci stiamo lavorando. Lui è Giuseppe Conte, per chi non lo conoscesse è stato presidente del Consiglio del Governo del Cambiamento e anche del Governo Conte II che ha condotto l'Italia in uno dei periodi più difficili della sua storia. E proprio mentre parlava si riferiva al blocco di licenziamento, una misura introdotta proprio da lui nei primi mesi di pandemia che impediva alle imprese la possibilità di licenziare il proprio personale nella stragrande maggioranza dei casi. E proprio il 31 marzo sarebbe dovuto scadere il blocco dei licenziamenti e quindi Conte era preoccupato di tutte le implicazioni che poteva causare il blocco dei licenziamenti. Molto si è detto riguardo l'iniziativa, addirittura alcuni hanno ipotizzato l'incostituzionalità della politica in quanto la Costituzione garantisce la libertà di impresa per l'imprenditore. Ovviamente lo Stato impedendo la stragrande maggioranza delle possibilità di licenziamento ovviamente mina questa libertà dell'imprenditore. Oltre a ciò l'opinione pubblica ovviamente si è spaccata. C'è chi pensa sia uno strumento fondamentale per superare al meglio questa crisi economica e c'è chi invece lo reputa come l'ennesimo intervento statale non necessario. In questa puntata di Whatsapp Economy cercheremo di rispondere a questo quesito qui e quindi chiederci quanto è stato essenziale bloccare i licenziamenti per salvaguardare i lavoratori e i posti di lavoro all'interno dell'economia italiana. Se ne poteva fare a meno? Tutto ciò in questa puntata. Prima di iniziare però dovete sapere che sto cercando un collaboratore per Whatsapp Economy che mi aiuti nella prosecuzione di questo progetto di divulgazione economica. Se volete sapere ulteriori dettagli ho fatto un video che è uscito una settimana fa in cui vi spiego per filo e per segno come funziona tutto il processo di selezione, chi sto cercando e ovviamente il vostro lavoro sarà retribuito. Quindi se siete interessati mandate il curriculum non prima di esservi informati a whatsappeconomy.gmail.com Ok, blocco dei licenziamenti. Innanzitutto una grande premessa cioè che al momento non esiste alcuno studio scientifico che ci possa portare qualche tipo di evidenza riguardo la connessione tra blocco dei licenziamenti e protezione dei posti di lavoro. Però possiamo fare qualche comparazione per cercare di valutare questa politica in questo arco di tempo che è passato. Una prima domanda per capire un po' meglio la questione potrebbe essere quale tipo di politiche economiche sono state adottate più frequentemente da parte dei governi per affrontare questo anno di pandemia? La risposta ce l'ha da LOX che ci dice che la prima politica adottata è stata quella di supporto finanziario alle imprese. La seconda politica adottata è stata quella di dare un supporto finanziario direttamente ai lavoratori o che hanno perso lavoro o che hanno perso una parte del proprio reddito. E in ultima posizione cosa c'è? C'è proprio quello di bloccare comunque di modificare i regolamenti riguardo i licenziamenti. Infatti se facciamo un focus sulla sola Europa notiamo che solo Italia, Grecia e Spagna hanno adottato qualche tipo di limitazione ai licenziamenti. Solo che l'Italia è stata quella più drastica. Se infatti in Spagna un'impresa non poteva licenziare una persona se dava come motivazione quello legato alla pandemia, in Grecia il blocco di licenziamenti era garantito solo alle imprese che erano state chiuse dal governo. Mentre in Italia sono stati bloccati la maggior parte dei motivi economici. Quindi se l'impresa voleva ristrutturarsi e magari doveva licenziare qualche persona non lo poteva fare. Oppure ancora se l'impresa voleva cambiare business o voleva riammodernarsi non lo poteva fare. Questo a prescindere se fosse legato alla pandemia oppure a un semplice prosecuzione del proprio business. Quindi se il blocco dei licenziamenti fosse una misura efficace per proteggere i lavoratori a questo punto ci si potrebbe aspettare che il tasso di occupazione di Italia, Spagna e Grecia sia rimasto molto più resiliente rispetto ai tassi di occupazione delle altre nazioni europee. In realtà purtroppo questo non è successo. Infatti se prendiamo il tasso di occupazione trimestrale di Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito vediamo che i paesi che hanno subito di più una contrazione del tasso di occupazione tra il Q1 e il Q2 del 2020 sono stati proprio Spagna e Italia. Ora questo paragone può essere spiegato in vari modi. Come ad esempio economie più fragili soffrono maggiormente di eventuali crisi economiche. Economie più fragili proprio come sono quelle di Spagna e Italia nei confronti di Germania, Francia e Inghilterra. Oppure ancora la diversa struttura del mercato del lavoro di Spagna e Italia può aver comportato una maggiore riduzione dell'occupazione in quanto economie incentrate soprattutto sul lavoro indipendente, autonomo e sulle piccole e medie imprese, categorie che sono state maggiormente colpite dalla crisi pandemica. Questo per dimostrarvi quanto sia difficile isolare totalmente la politica del blocco di licenziamenti e vedere quale impatto ha avuto sul mercato del lavoro. Ovviamente cosa che richiede del tempo e dello studio. Però noi possiamo fare ulteriori ragionamenti per capire quanto è stato efficace il blocco dei licenziamenti. Ad esempio possiamo metterci nei panni di un imprenditore che si vede arrivare la pandemia. A quel punto non abbiamo scelta. Dobbiamo licenziare i lavoratori perché non possono lavorare, non sono più produttivi per la mia impresa. A meno che non c'è lo Stato che mi agevoli nell'accesso al credito attraverso le banche ad esempio e che quindi mi facilita il sostentamento dei lavoratori. Oppure ancora meglio se sia lo Stato direttamente a sorbirsi il costo del lavoro dei miei dipendenti e quindi praticamente tenere i miei dipendenti a gratis in quanto ci sarà lo Stato a dare lo stipendio al posto mio. A quel punto qual è il mio incentivo a dover licenziare i miei dipendenti? Anche perché il processo di licenziamento non è che funziona come ebbiatore. Licenziare comporta assumersi una serie di responsabilità, dichiarare una serie di cose burocratiche e anche sopportare dei costi di licenziamento sperando ovviamente che il dipendente non ti faccia causa. E quindi tra il dover far rimanere nell'impresa lavoratori che praticamente mi costano zero oppure dover licenziare persone, subire dei costi o addirittura magari abbassare il morale all'interno dei miei dipendenti in quanto magari vedono che i loro colleghi vengono licenziati ovviamente io preferirei più ottenere i miei dipendenti nonostante non ci sia il blocco di licenziamenti quindi potrei comunque tranquillamente licenziarli. Questo tipo di ragionamento è sostenuto anche dai dati in quanto se andiamo a vedere il testo di licenziamento delle imprese francesi vediamo che il testo di licenziamento non è schizzato alle stelle nei primi mesi di pandemia dove era praticamente tutto chiuso. Questo nonostante non ci fosse il blocco dei licenziamenti. Tra l'altro già che ci sono vorrei sfatare un altro mito quante volte avete sentito che giorno dopo giorno ci sono decine se non centinaia di imprese che falliscono? Beh in realtà se andiamo di nuovo a guardare i dati in realtà il tasso di fallimento delle imprese è calato rispetto a tutti gli altri anni è anche in misura drastica e se ci pensate è abbastanza paradossale e fa ridere in quanto in uno dei momenti di crisi economica più difficili nel mondo il tasso di fallimento delle imprese diminuisce di botto. Questo proprio perché ci sono state altre politiche molto efficaci tra cui il finanziamento delle imprese oppure lo Stato che paga direttamente lui i dipendenti al posto dell'imprenditore. Questo fenomeno in realtà genera un ulteriore problema e cioè quello delle aziende zombie magari ne riparleremo in un prossimo episodio però è uno dei tanti problemi che il post pandemia dovrà affrontare ma ora entriamo più in dettaglio in quanto pensiamo blocco di licenziamenti quindi vabbè in un anno nessuno avrà perso il posto di lavoro e invece non è proprio così infatti tra febbraio 2020 e febbraio 2021 i posti di lavoro persi sono stati secondo l'Istat 945.000 di questi 945.000 lavoratori che hanno perso il lavoro ben 727.000 sono lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato oppure dei lavoratori autonomi proprio quelle categorie di lavoratori che hanno più subito la crisi economica dovuta alla pandemia e che non sono stati protetti dal blocco di licenziamenti gli autonomi ovviamente non si possono licenziare mentre le persone con contratto a tempo determinato ho finito il contratto, fine non c'è il licenziamento quindi abbiamo avuto una politica che ha avuto non pochi dubbi riguardo la sua efficacia e che è andata a colpire delle classi di lavoratori che sono stati sostanzialmente privilegiati all'interno della crisi economica pandemica in quanto le classi più colpite come abbiamo detto sono state quelle dei lavoratori indipendenti oppure quelli con contratti a tempo determinato chi saranno mai questi lavoratori? principalmente giovani e donne in più c'è il problema degli inattivi che sono aumentati di tanto in questo periodo di pandemia e si portano con sé il problema delle persone scoraggiate che non hanno più voglia di cercare lavoro o comunque di aggiornare le proprie competenze per cercare di restare competitivi all'interno del mondo del lavoro e questo ovviamente ha delle ripercussioni per la crescita economica dell'Italia e ruolo fondamentale dovrebbero avere le politiche attive per il lavoro che fino ad adesso sono state sempre fallimentari e sicuramente non è mai stata una questione di soldi ma più questione organizzativa ma voi mi potreste dire e vabbè Giorgio ma che sarà mai? insomma abbiamo abbondato? la politica è stata marginale? ma vabbè non fa niente insomma sempre meglio di nulla in realtà purtroppo come sappiamo bene qui su Whatsapp Economy l'economia è una coperta corta quindi se ci sono stati dei benefici anche se marginali ci potrebbero essere stati anche degli svantaggi nell'introdurre questa politica economica infatti molti osservatori hanno ipotizzato come ci sono state delle ripercussioni negative riguardo il blocco di licenziamenti sul rinnovo dei contratti a tempo determinato che non sono stati ovviamente più rinnovati anche a causa di questo blocco di licenziamenti inoltre non è stata data la possibilità a molte imprese di adattarsi al nuovo contesto economico oppure ancora di riammodernarsi nonostante magari non siano state impattate dalla pandemia senza contare il fatto che molte persone sono state praticamente congelate nel loro posto di lavoro senza la possibilità di poter aggiornare le proprie competenze oppure cercare di trovare qualche tipo di nuova occupazione una volta visto che non c'è più spazio in quell'impresa o in quel settore economico tutti questi fattori potranno rallentare la ripresa economica dell'Italia una volta che le restrizioni alla mobilità delle persone saranno abbandonate questo perché determinate decisioni sul licenziamento sull'ammodernamento di alcune imprese sono semplicemente rimandate al futuro invece sarebbero potute essere prese con tempo e quindi adattarsi al nuovo contesto economico che cambia quindi al momento possiamo dire che molto probabilmente l'aiuto ai lavoratori non deriva dal blocco dei licenziamenti bensì da altre misure come ad esempio lo Stato che supporta tramite la CIG i lavoratori e il loro salario oppure ancora le banche che concedono molto facilmente il credito alle imprese un esempio in questo caso sarebbe quello del Regno Unito che poco prima della pandemia non aveva alcuna politica economica paragonabile alla CIG mentre in qualche mese è riuscita proprio a instaurare un vero e proprio contributo in favore dei lavoratori l'unica situazione probabilmente possibile in cui il blocco dei licenziamenti sarebbe giustificato sarebbe nei primi mesi di pandemia dove l'Italia ha avuto non pochi problemi a erogare proprio questi finanziamenti alle imprese e quindi se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti probabilmente un numero maggiore di licenziamenti sarebbe avvenuto ma qui essenzialmente parliamo di altro cioè dell'inefficacia dello Stato di poter garantire alla popolazione un dignitoso sostegno in tempi difficili infatti un'altra statistica ci dice come le famiglie italiane abbiano subito una maggiore diminuzione di ricchezza in questo periodo di crisi economica rispetto alle altre nazioni nonostante l'accesso nei mercati finanziari per l'Italia sia stato molto espansivo e quindi non abbia avuto una crisi di risorse economiche da poter erogare al paese elemento che ci può dire quanto le politiche per il sostegno ai lavoratori siano molto migliorabili all'interno dell'Italia Draghi nel suo primo discorso al Senato aveva fatto intuire che nel 31 marzo ci sarebbe potuto essere effettivamente la cessazione di questa misura del blocco dei licenziamenti però dopo una serie di tire e molla soprattutto da alcune parti sociali come ad esempio i sindacati il blocco dei licenziamenti è stato prolungato fino al 30 giugno 2020 per tutte le imprese mentre fino ad ottobre sarà garantito il blocco dei licenziamenti solo per alcune categorie di imprese quindi in conclusione molte persone pensano che il blocco dei licenziamenti sia stata una misura essenziale per la tenuta sociale ed economica del paese però vedendo un po' di comparazioni di dati e di insight vediamo come in realtà la misura è stata per lo più marginale molto spesso inefficace a salvaguardare soprattutto le classi sociali più colpite dalla crisi pandemica senza contare tutti gli strascichi che si porterà questo blocco dei licenziamenti nella ripresa economica del paese cosa succederà dopo il blocco? beh innanzitutto bisognerà vedere se effettivamente finirà il blocco dei licenziamenti quanto i sindacati sono convinti della loro posizione e fermi più a proteggere interessi particolari che a vedere crescere il paese sicuramente il governo si è impegnato una volta finito il blocco dei licenziamenti a riformare le politiche a sostegno dei lavoratori anche se effettivamente forse è un po' troppo tardi visto che saranno passati un anno e mezzo dall'inizio della pandemia comunque se dovessero finire il blocco dei licenziamenti io diciamo che non mi sbilancio su eventuali previsioni di cosa potrebbe succedere sicuramente le politiche per il sostegno dei lavoratori che abbiamo già citato sono fondamentali certo è che se gli altri paesi ad ottobre saranno concentrati sulla crescita del paese e sulla ripresa economica noi dovremmo avere a che fare con un problema che avremmo già potuto affrontare un anno fa e tutto ciò è abbastanza ridicolo? io spero di avervi fatto un quadro della situazione se ci saranno ulteriori novità riguardo magari ai determinati studi che approfondiscono la questione sicuramente ne approfondiremo anche noi e niente spero di avervi dato qualche spunto in più e come al solito se non vi occupate di economia l'economia si occuperà di voi in questo caso si occuperà di licenziamenti alla prossima e ringrazio ovviamente gli abbonati e curriculum per aiutarmi in questo lavoro sto cercando collaboratori ne sono arrivate tanti email e vi ringrazio già anticipatamente avete tempo una settimana alla prossima ciao 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 ciao